almeno leggiamo qualcosa a nome suo, Parashashvini, non so cosa c'è scritto. Stavo studiando Gumarà, adesso mi sono un po' sui negaim proprio. Cosa che stavano dicendo? Che in pratica era l'ailula di Norma Limeler. Sta una storia, giusto per sapere. C'è scritto, in pratica dicono, ci sono tre libri, uno che è il libro per gli tzaddikim, che ha scritto a Norma Limeler, ed è questo qua, Norma Limeler, ed è il libro che ha scritto Norma Limeler, che in pratica dice come servire Dio. Così dicono che è un libro di istruzioni, di Torah, di insegnamenti di come servire Dio per gli tzaddikim. Poi c'è il Tanya, che ha scritto il Balatanya, che è per i beinoinim, per quelli di mezzo, né tzaddikim, né reshaim. E poi, sempre in chassidu, dicono che invece c'è Likute Moaran, che il rabbino ha scritto per i reshaim, vuol dire per quelli più in basso, per tirarli ancora più su. Al nome di Merk, una volta dicevano, una volta c'era una persona che era vissuto una marea di anni, cioè era vecchissimo. Nella storia non dicono quanti anni aveva, perché non si sa Bidiuca, e in quell'epoca non si calcolava Bidiuca l'anno. In pratica tutti facevano di tutto, come si dice, provavano a chiederli, vedere, lui diceva, guarda, non ce la faccio più proprio. Era così vecchio che non ce la faceva più. Masch non era contento di vivere, era proprio a pezzi. Cioè, cosa è successo? Che allora è arrivato uno tzaddik, era lì in zona da lui, non mi ricordo che era vera, gli ha chiesto, ascolta, raccontami di te, magari hai fatto qualche mitzvah particolare che ti tiene in vita per tanto tempo. E lui gli ha detto, no, non ho fatto niente, guarda, io ero un eglone, quello che accompagna l'autista, l'autista però con la carrozza. C'avevo la carrozza e i cavalli, portavo la gente in giro. Gli ha detto, ma raccontami qualche aneddoto della tua vita. Non ho mai avuto niente di particolare, Bauch Hashem, tutto a posto, però non ero particolarmente religioso, cioè non ero per niente religioso. L'unica mia connessione che ho avuto con la religione è una volta sono arrivati questi chassidim, cioè questi chassidim volevano andare dal loro Rebbe e li ho portati, ed era il nome Limelech, li ho portati da lui e poi vedevo che non uscivano. Allora ho aperto la porta e l'ho visto, lui era rosso, era proprio rosso e tutti i suoi talmidim lo guardavano innamorati e continuavano a cantare, parlavano. Solo quella volta lì ho visto. Allora questo tzaddiki ha detto, ah, ho capito come mai vivi così a lungo e non riesci a morire. Perché il nome Limelech, che tu hai visto rosso e pensavi fosse ubriaco, era pieno di amore per Akkadosh Baruch Hu. In pratica tu cosa hai fatto? Tu l'hai visto? Sei entrato nella sua stanza? C'è scritto che il nome Limelech ha detto che chi entra nella sua stanza, chi tocca la maniglia di casa sua, non lascerà questo mondo senza aver fatto chuva. Quindi vuol dire che devi tornare a Dio, devi fare chuva e solo allora puoi lasciare il mondo. Perché così ha detto il nome Limelech. Allora gli ha fatto vedere cosa bisognava leggere per prendersi di sé. Gli ha detto non c'è problema, faccio chuva. Ha fatto chuva, la stessa notte è andato a dormire e la mattina dopo hanno fatto i funerali. Poi per dire, mamma, chi era il nome Limelech ha detto, ah, chi tocca la maniglia della sua porta, non lascia questo mondo senza aver fatto chuva. Bisogna dire che anche il Bala Tania ha detto che chi impara il Tania all'inizio a memoria, non lascerà questo mondo senza far chuva. Sì, è giusto, mamma, di insegnarlo ai bambini. Non, mamma, Tania ha detto che il Bala Tania ha detto che chi impara il Tania all'inizio a memoria, non lascerà questo mondo senza far chuva. Leggiamo qualcosa di Noam Elimelech, veramente ero nella Gemara, ma non... A parte qualche chicca bella della Gemara, però... Vediamo Noam Elimelech e proviamo a vedere con noi. C'è scritto, dovevi sa'Aron e ti addave la'am. Vuol dire che Aaron ha versato le sue mani verso il popolo. Nira le fares, de'ina tzadik o lech tamid vedvekut vedavuk baolamot elionim, vuol dire che lo tzadik... Dice, mi sembra chiaro da spiegare che lo tzadik è sempre davuk, vuol dire è sempre attaccato con i mondi elevati. E' sempre attaccato con i mondi elevati. C'è soltanto che la sua speranza è sempre che ci sia del bene per tutto Am Israël. Così lo tzadik di continuo pensa che Dio faccia del bene a tutti. Questa è la speranza dello tzadik. Lo tzadik dalla mattina alla sera prega che ci sia del bene per tutto Am Israël. E in particolare ancora di più gli tzadikim che non sono più in questo mondo, di continuo pregano. Poi magari lo vediamo in questi giorni, c'è scritto Mamashka, ogni volta che vai su una tomba di uno tzadik, lo tzadik prega per te. Zehashu, bisogna andare dagli tzadikim. Non è una roba che fanno i Brestle, è ormai diventata una moda dire no, non vado. Cioè che è un gallo chi non va dagli tzadikim. Invece c'è scritto che tutto il mondo va soltanto grazie agli tzadikim. Gli tzadikim che pregano per noi, non solo gli tzadikim, ma gli morti in generale. C'è scritto che i morti pregano per questo mondo. C'è una storia nello Zohar che dice che una volta c'era, credo sia Rabbi Udà, ha detto che ha visto un... poi si erano sdraiati a dormire, così facevano. andavano in giro, sono sdraiati a dormire. In pratica hanno sentito questa persona urlare. Allora gli hanno detto, chi sei? Uomo Allah, Anna, io udi, sono un ebreo. E fa, ma dove sei? Fa, sono sotto terra, sono morto. E gli ha detto, loro ovviamente potevano sentire perché erano livelli spirituali enormi. E gli ha detto, perché piangi? Fa perché tra un po' arriva mio figlio. Mio figlio è stato preso da un... vuol dire una persona che serve le stelle, quindi vuol dire un'idolatra, e lo picchia dalla mattina alla sera, non riesce a fare niente. Io prego tutto il giorno, lo tiri fuori da lì. Allora il Rabbi Udà gli ha chiesto, il Rabbi Udà de Lozoa gli ha chiesto, ma voi vedete cosa succede in questo mondo? Vediamo tutto quello che succede in questo mondo? E se non ci fossimo noi a pregare per questo mondo, non potreste sopravvivere neanche cinque minuti. Neanche cinque minuti puoi sopravvivere se i morti non pregano per te. Non puoi sopravvivere neanche cinque minuti se gli tzaddikim non pregano per noi, perché ovviamente poi, ovviamente tutti i morti pregano per noi, ma gli tzaddikim ancora di più. Lo tzaddik arrivi da lui, eh? Non solo che prega di più, ha ancora più forza, perché ancora più, la sua parola vale molto di più. Raccontavo una volta a Rav Amram, mi ho sentito un shiur di Rav Amram, mi diceva che una volta uno è venuto da lui e ha detto a Rav voglio vedere mio padre in sogno, voglio vederlo, era morto, era nell'anno. A cosa ha fatto? È andato 17 giorni, Giamat Ratov è andato al Kotel, no scuola, alla tomba di Rachel Imeno, sulla tomba di Rachel, e ha pregato la 17 giorni, ha detto tutti i teili, non so, ha pregato tutti i giorni, ha detto per favore Rachel parla in cielo che possa vedere mio padre in sogno. Il giorno, il 17 giorno è tornato a casa, è andato a dormire, ha visto il suo padre, gli ha detto la smetti o no, non riesco ad andare su nei mondi più elevati, mi continuano a tirare giù, mi hanno obbligato a scendere così in basso, smettila di chiedere sta roba. Lui si è spaventato a me, ha detto sto benissimo qua, sono nei mondi più elevati, smettila di chiedere. sapere che mamma c'è andare nelle tombe degli tzaddikim, vuol dire risveglia che lo tzaddik prega anche per te. Ovviamente prega per tutto l'Israel, anche se stai a casa sul tuo divano, tutto va bene, ma è il chashur dello stamo, si vanno dagli tzaddikim. Con l'ignan che va dello tzaddik prega per te. Abbiamo visto che con l'ignan, dice qua il nome di Meller, con l'ignan dello tzaddik vuole di continuo che ci sia del bene per tutti. E per quello a volte scende dal suo livello e dalla sua madregà, dal suo livello più elevato. E qua va avanti e dice che tutto quello che riesce a fare ancora di più è grazie al fatto che scende dal... Ma è mostruoso perché è una roba che sono andata in questi giorni. Voglio aprirlo qua. C'è qua un libro. Cioè lo tzaddik fa un botto quando esce dai suoi pensieri così elevati. Adesso sembra una cosa che... Sembra che l'ho fatto apposta. Qui c'è un libro del... Si chiama Kayal Tarog, del Rav Amrami. Sede? Cioè per far vedere, almeno è testimoniato che non è fatto apposta. E qua il Rav Amrami dice che ogni Yudi, anche più tzaddikin, passano cose difficili. Ognuno passa delle cose difficilissime. Oppure passa delle situazioni che si chiamano mochin dekatnut. Cosa vuol dire? Mohin, moach, vuol dire cervello, dekatnut vuol dire piccolo. Ok? Rimpicciolito. Ok? Quindi quando una persona ha consapevolezza di Dio e che tutto viene per il bene, allora si chiama che ha mochin de gadlut. Ok? Vuol dire che ha il cervello in grande. E mentre mochin de gadlut vuol dire in piccolo. E quindi ci sono delle situazioni in cui una persona arriva a non aver voglia di pregare, non ha voglia di studiare, non ha voglia di... non ha voglia di far niente che ti avvicina alla kdushah. Nacron? Un tuo amico viene e ti chiede una mano o ho bisogno di un aiuto e gli dici no mollami. Nacron? Ci sono dei momenti del genere come si dice che si chiamano mochin de gadlut. Nacron? E noi dobbiamo sapere Mamash come comportarci in queste situazioni. Azrabi Yohanan racconta una storia almeno vedete come mai Mamash un bacio che è collegato con quello che abbiamo visto adesso del nome di Melef. E dice che Rabbi Yohanan nella Gmarà porta qua Rabam Rami in Bababatra a Indaled. Vuol dire Bababatra nel Talmud Bababatra a pagina 74 a Mudalef al primo foglio. C'è scritto che quando è salpato con la sua nave ha visto un grande pesce che ha tirato fuori la testa dall'acqua e i suoi occhi sembravano come due lune e dalla bocca uscivano due corsi d'acqua come due fiumi. Erano due fiumi grandi così c'è qua erano due fiumi grandi come la città di Sura e questo è quello che dice Rabbi Yohanan e i Chachamim da noi cosa chiedono? Si chiedono ascolta qual è il chidush vuol dire qual è l'innovazione cos'è che ci vuole insegnare Rabbi Yohanan ma cos'è sta storia qua è uscito visto sto pesce enorme con questi occhi che sembravano due lune e dalla bocca usciva l'acqua come ma cos'è sta roba qua spiegano come dice eravamo bravi non qua ma da un'altra parte ha detto che fin quando non è arrivato cioè quando è arrivato a queste Gmarot così fantastica nel Talmud che dice queste storie fantastiche non sapeva come spiegarlo fin quando un suo Talmud un suo allievo gli ha detto guarda che c'è Rabbi Nachman che lo spiega gli ha portato l'Ikutemoran ed allora Zakhino che Rav Amram è diventato Mammashi vicino a Rabbeno viene a Uman sta tirando fuori una marea di chidushin Baruch Hashem si è arrivato vicinato a Brest come si dice c'è scritto in Likutemoran nella Torah numero 15 c'è scritto che il pesce è chi viene a rappresentare lo Tzadik perché perché lo Tzadik come si dice il pesce può sempre stare con la testa nell'acqua il pesce di continuo è nell'acqua l'acqua rappresenta la Torah ok quindi cosa vuol dire che lo Tzadik è come il pesce che sta sempre nella Torah e non vuole stare neanche un minuto fuori dall'acqua lo Tzadik non vuole uscire neanche un minuto dalla vicinanza che ha con la Kadosh Boku oggi hanno mandato un video del Rav Kanievski dicono Ibraham Amash Tzadik Kadosh allora è venuto da lui il Rav Silberstein che è uno dei daianim più grandi che c'è in Israele è arrivato da lui gli ha detto Arav vogliamo far offrire le persone in questa associazione che aiuta i bambini poveri i bambini che non hanno da mangiare e ha detto Arav puoi dire chi aiuta i bambini poveri cosa merita di avere come per dire fai una benedizione e lui ha detto che abbia tempo di studiare e l'Arav ha detto Arav cosa vuol dire che abbia tempo di studiare gli ha detto il Rav Kanievski anche lui che è mancato questa settimana che abbiamo visto in Israele ha avuto un funerale di un milione di persone circa non so che altre persone fanno un funerale del genere così per uno tzaddik del genere stava tutto il giorno a studiare tutto il giorno non perdeva un minuto addirittura è famoso il fatto che ha abbassato la braha non diceva più non diceva più braha diceva bua bua sono le iniziali di braha vuol dire benedizione è riuscita per non perdere tempo c'è bua 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 uno dopo l'altro tutto il tempo studia non perdeva un istante un istante infatti quando ho chiesto cosa merita chi aiuta i bambini poveri qual è il merito più grande che possa studiare in sto mondo questa è la roba più bella la roba più bella che possa studiare abbiamo detto che lo tzadik è come il pesce non può stare però dice rabbino rabbinah scrive nel natural numero tetvav che non può stare fuori dall'acqua non può stare tutto il tempo nell'acqua deve a volte tirare fuori la testa cosa vuol dire che non può essere sempre concentrato al massimo con i livelli più spirituali deve anche deve anche scendere occuparsi di cose mondane come dicono i nostri chachamim dicono che bitulai kiuma vuol dire il fatto che lasci la Torah lasciare la Torah a volte ti permette di farla di seguirla una persona a volte deve lasciare la Torah per poter farla di più adesso inizi a studiare la Torah 24 ore e poi collassi per 4 giorni ti devi fermare devi andare a mangiare devi andare a dormire come si dice devi star con la famiglia devi farla a volte il fatto che lasci la Torah ti permette di farlo di più di aver più Torah come si dice che quando quando si si stacca dalla Torah dice Rabbi Nachman schiebbe di Kutemoran dice che è come è come i suoi occhi illuminano come la luna cosa vuol dire come la luna quando è nella Torah illuminano come il sole perché perché in pratica sono loro che ti meirot vuol dire sono loro la fonte dell'Abrahan sono loro quello che illuminano perché è connesso con la Torah ma dal momento in cui esce dalla Torah quello che illumina è il riflesso del sole quindi vuol dire il riflesso della Torah che studiava inizia a illuminare ok quindi che sono come le lune per quello perché in pratica illumina solo di riflesso e a volte come una luna la luna perché perché ha preso come esempio la luna l'abbiamo detto diverse volte la luna quando è più vicina al sole non la vedi invece più la luna è lontana più la vedi noi quando vediamo la luna bella tonda crediamo che sia più vicina a noi la vedi bella tonda invece in realtà è a metà del mese il 15 del mese il 15 mese lunare ovviamente il 15 del mese vuol dire che è più lontana dal sole allora la vediamo bella illuminata ma in realtà quando è più vicina non la vedi neanche anche noi dobbiamo sapere quando non vediamo la luce dobbiamo sapere che Akadosh Vokhu è più vicino a noi più di tutto il resto del tempo Akadosh Vokhu quando non c'è la luce vuol dire che è ancora più vicino a noi Aswomerpo va avanti dice Mevaira in pratica dice che una 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 persona passa una marea di cose durante la sua vita Mamash ha problemi salite discese casini di tutti i tipi di tutti i tipi abbiamo casini noi ne sappiamo una minima ma più le persone vanno avanti con gli anni più vedono che le persone ne passano di tutti i colori e non sempre riusciamo a rimanere forti non riusciamo sempre a essere come come diciamo in ebraico dice Beorot non riusciamo sempre a essere felici o servire Dio con felicità è difficile e come si dice e quindi in quei momenti là non abbiamo più la forza del sole non illuminiamo più ma la luce che ti rimane è la luce della luna cosa vuol dire la luce riflessa la luce riflessa è quella che ti illumina e e dobbiamo sapere che questo si collega con quello che abbiamo detto di che non solo una persona semplice passa queste discese queste salite ma tutte anche le persone più semplici non solo le persone semplici ma anche più grandi anche più grandi i tzadikin hanno delle salite delle discese mostruose mostruose durante la loro vita possono avere delle prove delle salite delle discese mostruose e rabbino rabbino ci fa vedere ci insegna come ognuno di noi deve guardare alle alle sue discese come occuparti come comportarti in quelle discese d'accordo deve tutta la vita una persona deve il lavoro che noi studiamo adesso noi adesso stiamo studiando questa è la teoria la pratica nelle discese non quando sei beorot non quando tutto va bene quello è importante tu devi sapere che quando sei in salita che quando sei beorot che sei che vuoi star vicino a caros bohu legitei lì ticun aclali mikve filà ballando cantando quando fai queste cose qua devi sapere che ti stai ricaricando e questa luce poi in futuro quando avrai la discesa ti aiuterà ti illuminerà come la luna bamash quello che dobbiamo cercare di caricarsi il più possibile ci sono ragazzi che iniziano a tornare becciuva o ragazze anche quando una persona inizia a tornare becciuva è beorot e cosa succede che subito il mondo intorno a te ti dicono tutti fermati fermati ma cosa vuoi diventare fanatico chi conosce i baletciuva sa che è meglio che vai vai tarbiz 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 vai il più possibile perché tra un po' avrai una discesa e almeno tutto quello che sei riuscito a acchiappare nella salita ti rimane almeno un rescimo il rescimo cosa vuol dire è la scia almeno una minima cerca di acchiappare il più possibile almeno poi quando sei in discesa ti rimane una minima così c'è di attaccare il più possibile abbiamo iniziato a studiare è venuto un rav al tempio da noi alla mattina e viene tutti martedì chi vuol venire e ci ha fatto una Torah ha fatto l'ikuteo vi dico la verità dopo meno male che sono passati un po' di giorni allora una persona si dimentica perché io dopo che ho sentito questo rav come spiegava l'ikuteo mi sono vergognato che una volta ho aperto l'ikuteo e ho provato a spiegarvi l'ikuteo come dice il rabbino che è buono dimenticarsi delle cose quindi come si dice è un regalo che c'è la dimenticanza a Kadoshul ci ha fatto dimenticare la vergogna che avevamo là c'è una Torah numero 74 è un malach un malach che c'è scritto l'ikuteo proviamo a vederlo un attimo perché almeno è una bomba c'è scritto nel numero 74 l'ikutei tiniana l'ikutei tiniana è il secondo libro di rabbinachma rabbinus scrive dopo purim leggiamo parashat para di shabbat questa settimana leggiamo la parashat di para cos'è la parashat para della para la mucca quella nera la mucca rossa la mucca rossa cosa vuol dire che in pratica si prendeva la mucca rossa veniva sacrificata e le ceneri venivano messe con l'acqua sulle persone che erano impure della morte cosa vuol dire una persona che era impure della morte veniva a purificare grazie all'acqua della paraduma è tutto un talir vuol dire tutto un un metodo per arrivare alla purezza però perché si inizia a leggere subito dopo purim perché subito dopo purim hai un mese a pesa le donne saranno già in stress iniziano già a dire tatatita anche lì poi magari io non so se riusciamo proviamo a fare magari un po' di ala khot o magari aggiungiamo un giorno solo di hot pesa bisogna pulire la mizwa non è fare le pulizie mamma andare a pulire la polvere tutto puoi farlo anche dopo pensa a quello l'importante è stare dove mangi dove sai che può essere caduto il hamezz che hai bambini piccoli che portano il hamezz in tutte le stanze però non impazzire e portare stress a tutti perché sta arrivando Pesach e Pesach è una delle feste più belle se non la più bella che abbiamo quindi bisogna mamma farla non dobbiamo far cenerentola per servir bene la festa bisogna pulire e togliere tutto il hamezz però il fatto che dobbiamo pulire dobbiamo pulire da dentro di noi il hamezz il hamezz cos'è? l'ego l'ego e ne parleremo però qua inizia a dirti che subito dopo Purim cosa fai? leggi Parashat Parah Parah vuol dire la mucca rossa perché in pratica i Chachamim dicono inizia a leggere Parashat Parah in pratica quando tiri fuori due libri della Torah uno è il libro della Parashat Hashavua questa settimana è Parashat Shemini e poi ti tirano fuori il libro e leggi Parah allora le persone che vengono al Tempio dicono ma perché si leggi anche Parah perché tra un mese Pesach è chi è ancora impuro della morte che inizia a occuparsi di come purificarsi ok a suo mer chi Parashat Parah che dice iè nizarin qualcosa dice si legge la Parashat di Parah in modo che le persone stiano attenti a essere pure fin quando arriva Pesach in modo che possano essere puri quando vengono a portare il Corban Pesach o vengono a fare l'offerta di Pesach al Tempio o mangiarlo e in pratica spiega che Parah la Mukha Rabbeno spiega che all'inizio si chiama Pur Pur abbiamo detto in queste settimane che rappresenta la lotteria infatti la parola Purim viene da lotterie e Pur all'inizio dice Rabbeno si chiama Pur perché Purim viene dal nome Pur dalla lotteria come l'abbiamo visto noi e dopo viene da Hapur Hapur vuol dire la lotteria si trasforma in Parah vuol dire che la Hei da davanti arriva alla fine quindi inizia da Hapur e poi diventa Parah perché in pratica dice Rabbeno che è ovvio che Purim è soltanto l'inizio per arrivare a Pesach vediamolo adesso un secondo sembra così però vedrai che è più chiaro vediamo avanti Pesach ok non voglio entrare in questi dettagli perché sennò andiamo via dal punto che vogliamo fare poi più avanti va avanti alla fine di questa Torah c'è un mamar di Rabbi Nachman proprio una frase che Rabbi Nachman dice che è mega famosa e dice veramente all'inizio tutti gli inizi venivano da Pesach adesso invece tutti gli inizi vengono da Purim così dice Rabbi Nachman e finisce e poi va avanti e dice Vachshav e adesso ve lo si è ma non ha finito di parlare ok quindi teniamo a mente che Rabbi Nachman ha detto che adesso tutti gli inizi vengono da tutti gli inizi vengono da Purim una volta venivano da Pesach adesso da Purim Achshav il Rab ci ha fatto vedere se andiamo nella Torah numero 34 di Kutemoran invece all'inizio dice un'altra cosa che poi proviamo a collegarle tutti insieme perché poi lo collega la Chota ma noi proviamo così semplicemente chi ha il libro può prendere la medale la medale vuol dire 34 la parte numero Hey credo sia la medale in No non era la medale Scusate un secondo No non mi ricordo che Torah era credo la scusate mi è colpa mia in pratica nella Torah adesso non mi ricordo qual era il numero vi dico la verità in pratica cosa dice Rabinah qua spiega in questa Torah in pratica ci racconta un'altra cosa era bello vederlo dalle sue parole però vabbè tanto comunque devo tradurlo quindi mi sono dimenticato che Torah era che Dio mi perdoni in pratica cosa abbiamo detto che in pratica Rabinahman cosa spiega in un altro Torah dice che ci sono diversi due tipi di amore ok due tipi di Aava c'è una Aava forse aspetta vi dico io dove è scritto aspetta in pratica cosa dice in pratica Rabinahman ve lo faccio riassunto io in pratica dice che ci sono due tipi di amore in pratica c'è un amore che dipende dai giorni e dai dice Mamash dai Yamin dai giorni e dal tempo cosa vuol dire che in pratica c'è un amore che dipende Mamash i giorni considerato sia i giorni il tempo in cui vivi più i giorni dove vivi però vuol dire anche le Midot vuol dire le caratteristiche i giorni sono considerate le caratteristiche quindi vuol dire che c'è un amore che dipende dalle caratteristiche da come sei fatto da come è fatto tuo figlio prendiamo l'esempio col figlio può esserci un amore che tu in pratica ami tuo figlio perché lo ami di più quando ha 4 anni 5 anni o 30 anni 40 anni perché ha fatto così perché si è comportato così e questo è un amore che è condizionato dai giorni e dal tempo Avall spiegherà bene che c'è un amore ancora più elevato c'è un amore che si chiama Avat Adat vuol dire che è l'amore nella Adat vuol dire che è ancora più elevato e come è rappresentato sempre se facevo l'esempio del figlio è l'amore di un padre a un figlio che ha soltanto in testa immaginario ancora prima di sposarsi ancora prima di avere i figli dice wow se ho un figlio e lo voglio come mamash nel momento che una persona pensa soltanto e questo amore qua lo possono provare tutti non deve averlo mamash in carne ed ossa puoi provarlo soltanto anche pensarlo l'amore che una persona ha ancora prima di avere il figlio dice era bene o che è ancora più elevato Avat però per noi è molto difficile captarlo perché? perché ancora non ha né tempo né giorni cosa vuol dire? che ancora non è venuto giù non si è materializzato allora c'è più difficile da capire ma noi capiamo soltanto le cose che hanno un vestito se non ha il vestito non lo capiamo infatti c'è scritto nella Gmarà c'è scritto che Dio ha creato il mondo con dieci ma'amarot cosa sono dieci ma'amarot? sono dieci parole Dio ha creato il mondo con dieci parole e i Chachamim hanno iniziato a contare c'è scritto e sia luce e Dio ha detto sia luce e ha diviso le acque ogni volta che ha detto vai ehi ha parlato i Chachamim mi hanno contato hanno detto guarda se prendi il libro di Bereshit con tutto l'amore del mondo voi mi dite che ci sono dieci ma'amarin che devono essere dieci perché il numero è delle sfirot ma qua io ne vedo solo nove D'accordo? Gmarà viene e dice no sai perché sono nove? perché Bereshit è mamar satum mamar satum cosa vuol dire? che Bereshit vuol dire in principio è un mamar una cosa che Dio ha detto senza dirla e allora noi non riusciamo a captarla veramente la creazione noi non riusciamo a captarla perché? perché non ha il vestito ci sono delle cose che non hanno i vestiti cosa vuol dire? che non hanno sono così elevate che dal livello così spirituale non hanno un vestito che te le può spiegare e noi abbiamo detto che ogni cosa che noi abbiamo in questo mondo è un vestito del kavod per Akkadosh Boku è tutto un vestito però tutto quello che noi vediamo Akkadosh Boku è bravo è buono vuole kavod a volte gli piace il din vuol dire che gli piace il giudizio e tutto sono tutte midot vuol dire sono tutti come giorni che noi mettiamo su Akkadosh Boku per cercare di capirlo a vale in realtà c'è scritto che se lui si toglie il vestito c'è scritto che gli in futuro diranno canteranno tutti andranno tutti intorno a lui e diranno questo è quello a cui speravo perché? perché fino ad allora non avranno capito cosa vuol dire non avranno mai visto cos'è che speravano a un livello spirituale molto più elevato ognuno vedrà cosa sperava chi è il Dio che sperava ovviamente senza farsi un'immagine non è la barba o le robe la luce che viene da Akkadosh Boku ognuno di noi se la immagina in un modo diverso a di chi quando arriveranno in cielo solo allora capiranno e diranno questo è quello che abbiamo sperato questo è il Dio a cui abbiamo pregato questo è il Dio che speravamo di incontrare ognuno lo dice quindi c'è scritto che ognuno lo dice quindi vuol dire che ognuno ha un punto di vista diverso ed è tutta realtà perché non avremo più i vestiti le cose che non hanno i vestiti che non hanno la materialità sono molto più difficili per noi da capire addirittura non solo dice Rabbi Nachman lì spiega che non solo è più difficile da capire ma anzi non lo capisci e ancora di più ci sono delle clipote vuol dire le energie chiama le energie del male o dei filtri che in pratica che non ti fanno vedere la luce di Dio che in pratica ha loro la voce ci sono dei filtri che in pratica sono delle bucce che mangiano dalla kdushah vuol dire che mangiano dalla santità ma ci sono delle bucce che invece loro non mangiano neanche dalla santità sono totalmente malvagie così scrive il Balatani ci sono diversi tipi di clipote le bucce che sono totalmente malvagie questi filtri che non ti fanno vedere Dio dice Rabbi Nachman da dov'è che Yon Kim da dov'è che risucchiano vitalità spiega Rabbi Nachman che risucchiano vitalità da questo Mamar Satung da Bereshit da un posto così elevato che noi non riusciamo a capire allora loro vengono lì dentro e ti dicono no ma non lo riesci a capire perché non c'è Dio ma sai qua ci sono le robe così eh ma Dio non c'è eh non lo senti qua vuol dire che non c'è ma in realtà dobbiamo sapere che quando non sentiamo che è è la vitalità che prende quel posto viene dal posto più elevato e questo perché lo colleghiamo con Purim Rabbi Nachman lo porta a Belikutea che Purim è la tutte le feste e noi cos'è che dobbiamo fare noi tutte le feste dobbiamo vuol dire dobbiamo santificare il giorno lo diciamo spesso che in pratica devi innalzare devi mettere le candele almeno a dieci che sono dieci pugni da terra la persona mette le dieci perché perché deve smettere di lavorare si deve fermare deve santificare il giorno è uno dei comandamenti a pezza adesso devi devi fermarti tutto ti devi fermare perché perché devi santificare quei giorni cosa ti dice la Torah ti insegna che in pratica Purim che è un giorno ancora più elevato dove non hai non hai modo di captare la luce di Purim non hai modo e quindi non ti dicono neanche santifica il giorno perché qualsiasi cosa fai se lo santifichi da anche da zero a mille il mille è un nulla allora cosa ti dicono continua a essere a essere continua puoi lavorare puoi vivere normale puoi usare il cellulare comprare vendere fai quello che vuoi a Purim fai quello che vuoi perché non hai modo di captare questa luce enorme non solo non hai modo di captare questa luce enorme da queste luci enorme tutte le clipote vuol dire tutte le bucce tutti i filtri mangiano da là e ti dicono no non c'è nessuna luce ma va una festa di ubriaconi dai ti vuoi mai il carnevale ti devi travestire ma ma che luce vuoi che ci sia è inutile che vai di giorno a fare vieni di notte andiamo in discoteca facciamo una festa finita lì facciamo una festa di puri così lo viene a dirti dobbiamo sapere che da lì dafka è la luce più grande srabbinata ci segna una roba enorme adesso tutta questa era una prefazione non voglio andare nei dettagli perché poi so già che ci sono diverse persone che o sono qui o si sentono la registrazione mi scrivono dai Edo racconta le storie che sono più belle ogni volta mi dicono così cos'è che volevamo dire in pratica vogliamo dire che anche nei posti così dice rabbinata nei posti dove c'è a chi che non vedi vitalità che non vedi proprio non vedi energie positive non vedi niente sappi che anche lì dentro c'è Dio non solo c'è Dio chi dà vitalità a tutti questi posti dove non senti la presenza di Dio è una luce così grande che non hai modo di capirla perché ovviamente se sono vivi se ci sono vuol dire che li fa vivere com'è che li fa vivere da un posto così elevato che non abbiamo il potere di 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 captare se non abbiamo il potere di captare cosa ce ne frega sapere che lì c'è c'è Dio la domanda una persona si trova nei peccati più grandi in mezzo all'impurità più grande in mezzo allo schifo dello schifo ok cosa mi serve sapere che rabbinahman mi insegna che anche lì dentro c'è Dio e che non lo posso captare lì dentro cosa me ne frega dice che in quei posti l'unica cosa che puoi fare è soltanto dire Hashem dove sei Dio dove sei voglio stare vicino a te quando nel momento in che inizi a ricercarlo soltanto neanche inizi a ricercarlo lo vuoi nello schifo dove sei subito ti colleghi con la luce più elevata che è l'inizio per quello che rabbinahman dice che tutto una volta incominciava il lavoro da Pesach cosa vuol dire il lavoro di tutti di le kadesh santificare vuol dire innalzare un qualcosa dal male giusto prendi il bene lo tiri su dal male arrivi a un posto che è così elevato che anche se sei nello schifo nello schifo devi sapere che il Kallosh è con te Dio è con te non ti molla un attimo sei nel buio del buio Dio è con te perché ho detto mi valeva la pena non solo svegliarsi la mattina ma vivere che diceva guarda tutto Purim tutta la storia di Purim quando è finito Purim cosa è successo non è successo niente Esther è rimasta a casa di Akashverosh gli ebrei vivevano a Shushan sono rimasti a Shushan quelli che vivivano dopo un anno hanno ucciso un tot di nemici a Val ognuno di loro è rimasto nello schifo dove era Esther è rimasta nella casa dell'idolatria cos'è cambiato dagli ebrei prima di Purim e dopo Purim è cambiato qualcosa fisicamente era nello stesso posto non è come l'uscita dall'Egitto gli ebrei sono usciti dall'Egitto il 14 di sera il 15 escono e sono usciti dall'Egitto allora facevano la festa sono usciti dalla schiavitù sono usciti per arrivare alla 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 come si dice alla santità giusto a essere servi di Dio dopo 49 giorni arriva Shavuot cosa vuol dire abbiamo abbiamo Shavuot abbiamo ricevuto la Torah ogni volta santifichiamo perché in pratica abbiamo uno status un cambiamento abbiamo ricevuto qualcosa abbiamo avuto un cambiamento siamo usciti da una parte non è successo niente Mordechai ha ricevuto una casa più bella e l'anello per timbrare è rimasta casa di 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 gli ebrei di Shushan Abira hanno continuato a vivere a Shushan non è che sono andati a vivere in Israele qual è la differenza da prima e dopo la festa di Purim è che dopo Purim anche l'ebreo più lontano anche l'ebreo che è in mezzo all'idolatria al posto più marcio che c'è sa che Dio è con lui sa che Dio fa i miracoli dalla mattina alla sera e che è con lui e questa è la per quello che dice Rabbina dice una volta tutti gli inizi erano da 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 Pesach vuol dire che ti doveva tirare fuori dall'Egitto ti doveva portare fuori oggi prima ancora di portarti fuori visto che sei in uno schifo così schifo sei così in basso il primo lavoro che devi fare è di ricercarlo nel buio dove sei cosa vuol dire ricercarlo sapere dire guarda io non riesco a smetterla di mangiare la torta con la panna o i cannelloni non riesco a smettere di mangiare i cannelloni io dalla mattina alla sera penso ai cannelloni i cannelloni i cannelloni sai cosa io so che in questa Tava in questo piacere ci sei anche tu io lo so che ci sei qua dentro ma non riesco a smetterla io non riesco a smetterlo ma so che sei con me soltanto questa consapevolezza è l'inizio che ti può portare a Pesach ti purifica per arrivare a Pesach e quando arrivi a Pesach a Pesach cosa vuol dire che ti tira fuori dall'Egitto l'Egitto è benedetto che la schiavitù che Mitzraim è la parola Mezzarim Mezzarim sono tutte le cose che ti stanno che ti stanno strette tutte le cose che ti stanno strette la Hanna la preparazione viene da Purim cos'è la preparazione di Purim è sapere ribonosci all'Olam so che sei con me anche nelle cadute eh non mi molli mai eh non mi molli mai magari l'abbiamo spiegato un po' così ci abbiamo girato dietro per dirvi eh Rabbin ogni volta ogni volta sapere ogni cosa ogni posto dove sei è con te è lì dentro e l'unica cosa che devi fare devi trovarlo lì dentro se non lo trovi soltanto sapere che hai con te è per quello che diceva Rav che tutte le tue rot sono date per chi cade una volta c'è scritto che sono arrivati i chassidim di Rabbin Ahwan Rabbin Ahwan ricordiamo che l'ultimo anno quando è morto l'ultimo Rosh Hashanah che ha fatto prima di morire lui è morto quindi 18 giorni dopo Rosh Hashanah era durante Sukkot e l'ultimo Rosh Hashanah c'erano 50 chassidim a Rosh Hashanah 50 e basta chi lo sa sa che ogni anno vanno 80.000 90.000 speriamo di andare anche a Rosh Hashanah stiamo pregando già adesso c'è rischia di arrivare a Rosh Hashanah ci sono persone già che prendono i biglietti per la Moldovia che dicono che adesso non devi neanche fare il tampone puoi andare da là direttamente a Uman non so con la cavo delle persone che fanno così a Val il Rabbin Ahman ha visto questi i suoi chassidim che sono venuti dei chassidim e lui gli ha detto Rebbi dacci una Torah lui gli ha guardati e ha detto dall'ultima volta che siete stati qua non avete fatto neanche un peccato siete santi non ho Torot da dirvi che Torot vi dico le stesse Torot che vi ho detto l'altra volta non ho altri insegnamenti ho bisogno che cadete per dirvi delle Torot degli insegnamenti che vi tirano su dai posti più bassi per quello che tutto il lavoro del Mashiach sarà quello per quello che il Rabbin Ahman ha detto tra me e il Mashiach non ci sarà nessuna differenza l'unica cosa che lui lo ascolterete a me non mi ascoltate questa è la differenza una Torah del genere che ti dice che ogni persona anche se nei peccati più grandi a Kadosh Borku è con lui e l'unico motivo per cui nei peccati più grandi è perché Kadosh Borku lo sta mandando a cercare la sua strada deve cercare c'è scritto che da ognuno di noi verrà fuori una Torah una Meghilah leggeranno in cielo la Meghilah la Meghilah ci sarà la Meghilah di ognuno di noi ognuno di noi è una storia lo dico Rabbeno scrive come si dice dicono a nome di Rabbeno che Rabbeno dice che Dio ha creato il mondo perché gli piacciono le storie Dio gli piacciono le storie la tua è una storia il tuo è un libro e ognuno di noi siamo soltanto sei dei personaggi nella tua storia così è ognuno di noi ha una storia Kadosh Borku gli piacciono le storie la tua storia è la ricerca di Kadosh Borku nei posti più bui quindi per quello che Rabbeno dice non esistono malvagi in Israele non esiste un malvagio sono tutti alla ricerca della loro strada ognuno sta cercando la strada non esiste una persona malvagia non esiste un Rasha è soltanto che vuol dire che la consapevolezza ha ancora ancora colorata che non riesce a vedere c'è un filtro cosa vuol dire che ha un filtro che non sa che Kadosh Borku gli vuole bene di brutto gli vuole bene abbiamo detto che l'amore che è badà vuol dire l'amore che una persona ha nel cervello se una persona si ferma a ragionare quando ho un figlio voglio così sto così mamma inizia a pensare al suo futuro figlio nei dettagli si risveglia lo riempie di amore che poi magari quando c'è là davanti dice che palle questo dorme non riesco alzati tu a dargli da mangiare non ce la fai più hai degli alti e bassi con i bambini quando è badà è tutto amore è un amore che non riusciamo ancora a spiegare la bomba che c'è scritto nel Midrash Rabbah chi vuol vedere la Midrash Rabbah nel Midrash numero 4 c'è scritto che ci sono diverse ideote di cosa ha creato prima Dio dopo chi vuole è bello da vedere la Midrash Rabbah numero 4 credo che l'hanno tradotto anche in italiano non so se c'è questo perché non credo che abbiano tradotto tutti i Midrashim però questo è un Midrash importante e numero 4 c'è scritto addirittura che prima di creare il mondo ha creato Am Israele quindi cosa viene a dire che ancora prima di creare tutto ha creato noi ancora prima di creare tutto è inspiegabile il suo amore è un amore inspiegabile solo per sta roba qua potresti piangere della mattina quanto ti vuole bene quanto Dio ti vuole bene è un amore che non puoi dire io amo i miei figli amo mia madre il suo amore non dipende né dai giorni né dal tempo ti vuole bene non ci sono parole qualsiasi parola non è quanto a Kadosh ti vuole bene l'altro giorno sono andato in un negozio di di robe di di natura queste robe qua c'era sta signora mi ha detto di dove sei io sono turca che non posso dire di giorni allora c'era fuori questa questa amica della venditrice mi ha detto guarda io guarda io non ho molto un buon rapporto con la religione perché la mia migliore amica è diventata religiosa 15 anni fa e a me si vede che non si sono trovati lei ha fatto una strada l'altra non si sono trovati mi ha detto ma c'è la gonna lunga ogni volta mi dice prega gli dico ho un problema lei dice prega prega io non c'ho voglia di pregare e allora mi ha detto ogni volta che sono con lei e si è fermato un attimo mi sento come se se non valgo se solo lei è quella brava ma gli ho detto un dibuio guarda così semplicemente gli ho detto guarda Rav Karlibach adesso dico chi lo dice però Rav Karlibach lo dice a nome di Rabbi Nachman io non ho mai visto letto a nome di Rabbi Nachman però è una delle degli auguri che scrivono anche i religiosi se li scrivono almeno i chassi dei bressel se lo scrivono sempre uno con l'altro quando è il compleanno uno dell'altro e dicono che il giorno gli ho detto guarda a nome di Rabbi Nachman dicono che il giorno in cui sei nato è il giorno in cui Dio ha visto che il mondo non può andare avanti senza di te e non può andare avanti senza di te questa persona qua adesso noi lo diciamo per il compleanno ma vale in realtà ogni giorno che vivi ogni giorno che respiri ogni giorno che ci sei veramente vuol dire che Dio sa che non può andare avanti il mondo senza di te non è che ti ha fatto e adesso sei lì questa è la tra il popolo ebraico e gli ovdeco chavimu mazalot cosa dicono gli ovdeco gli akum gli idolatri cosa dicono infatti come mai gli idolatri si chiamano ovdeco chavimu mazalot vuol dire che servono le stelle e i segni e la fortuna perché è una delle scienze più elevate che ci sono allora cosa vuol dire il credere nelle stelle e nella scienza delle stelle è come dire guarda Dio ha creato il mondo ci credo che c'è Dio perché molte di queste persone ci credono che c'è non lo chiamano Dio della Torano lo chiamano una forza come si dice alla radice di tutto una non so come si dice in italiano però una forza onnipotente ci credono molti ci credono che c'è questa potenza che ha creato il mondo Sera che ha fatto questo Big Ben loro dicono ok Dio ha fatto il mondo bella lì ha messo le stelle che gestiscono le energie e tutto e poi basta se n'è andato Masomer se n'è andato ma vuoi che gliene frega se due adesso litigano vuoi che gliene frega se tu adesso arrivi a casa e litighi con tua moglie per una cavolata lei ti dice fai questo tu dici fai questo no Shabbat vai inizia a litigare vuoi che gliene frega e Matt credi che questa potenza che ha creato tutto l'universo che ha creato tu è il contrario di tu vuoi che lui gliene frega questa è la discussione tra la Torah e gli altri popoli gliene frega sai quanto gliene frega non solo che gliene frega ha creato il mondo perché gliene frega di quello gliene frega di questa storia qua apposta ancora molto di più gliene frega come tua moglie ti dice una roba e tu abbassiato hai ragione hai ragione tu ma stai zitto tuo marito ti dice e tu lo prendi ben munà oggi al tempio è venuto questo qui un così dicevano che era un tossico è venuto al tempio con la mascherina allora era un ragazzo giovane però è venuto con la mascherina noi non abbiamo neanche diffidato vi dico la verità adesso hanno fatto una regola al tempio che non si entra più con la mascherina al contrario in pratica questa persona è entrata con la mascherina ha chiesto i tefilini si è messo i tefilini poi ha fatto lo shema ha fatto le barho ha chiesto le tirate a dai ma una persona che era al tempio e poi ha detto scusa dov'è il bagno che voglio andare al bagno prima di fare la midà prima di fare la preghiera questo qua è sceso oggi è successo oggi è uscito dalla porta perché bisogna uscire dalla porta si è abbassato così evidentemente ha preso il corkinet che è il monopattino elettrico di una persona e si è scappato il ragazzo che era dentro dopo qualche minuto si gira guarda guarda fuori e dice no ma hanno preso il corkinet durante l'anno tutti erano un po' scioccati come ti ha preso il corkinet lui dice no ma quello è andato in bagno andiamo in bagno vediamo la luce spenta chiusa a chiave è andato via c'è stato qualche minuto di shock qualche secondo un po' di shock poi subito Baruch Hashem è un tempio dove le persone ballano tutti i giorni Baruch Hashem tutti i giorni la preghiera è fatta cantando ma Karush Bokut ha fatto del bene ma chissà cosa doveva fare meno male che non fai l'achemio che non sei su una sedia a rotelle Baruch Hashem chissà cosa ti doveva succedere Karush Bokut ha fatto un regalo e ti ha preso ti ha preso il corkinet è il monopattino è il monopattino e sapere che nel momento più buio triste è allucinante è una sensazione Mamash schifosa che una persona che gli dai le robe viene e ti prende una roba del genere Mamash Mamash caca e poi alla fine abbiamo aperto la Rona Kodesh per rimettere il Sefer Torah tutto questo è successo quando avevamo la Torah fuori poi abbiamo rimesso la Torah dentro abbiamo iniziato a dire abbiamo fatto Mish e Berach abbiamo fatto una benedizione al ladro abbiamo fatto che chi benedice Avraham Mitzrah e Yaakov benedica il ladro Kadosh l'abbiamo chiamato il ladro Kadosh che prima di rubare si mette di filino ti fa funzionare le cose vedi lui è riuscito gli è riuscito l'intento eravamo lì in 15 persone poi ci sono le persone che se lo beccavano che Dio l'aiuti veramente gli abbiamo fatto la benedizione che il ladro Kadosh Aganava Kadosh vuol dire il ladro santo che Baruch Hashem che con l'aiuto di Dio riesca a vendere il monopattino a un prezzo altissimo e grazie al fatto che è andato con questo monopattino e che è stato con noi alla mattina torni Bechuvah che smetta di prendere le droghe che lo vediamo presto con noi a fare la preghiera a studiare e il ragazzo gli abbiamo fatto la brachà e abbiamo detto che grazie al fatto che prendiamo questa cosa qua Be'emunah vuol dire che prendiamo quello che ci è successo con Be'emunah con Fede anche se siamo in un buio non riesci a vedere subito ti dispiace addirittura l'oye Zerarati viene a dire ah Ken se da adesso puoi dire io posso dire ah è accoletto va Karushba Kuh ci ha fatto un regalo come faccio a dirlo quando non è mio il monopattino come faccio a dirlo quando sono i soldi di un'altra persona vuole che ce l'hai nel cuore allora abbiamo detto gli abbiamo fatto la brachà abbiamo detto che sia su di noi che prendiamo questa cosa qua con emunah vuol dire con Fede e sia su il proprietario del monopattino che grazie al fatto che l'abbiamo preso ridendo e scherzando cioè ridendo e con emunah che Dio gli mandi gli cancelli tutti i peccati e cancelli da noi tutti i peccati e tutti i minimi vuol dire tutti i processi che sono su di noi e Besratachem abbiamo fatto la benedizione al ragazzo che ha perso il corkinet che Besratachem trovi moglie questa quest'anno si sposa che abbia un figlio e poi abbiamo iniziato tutti a cantare Masal Tove Simmantov Simmantov Masal Tove Simmantov Masal Tove Simmantov Masal Tove Per un tot di minuti Raka a ballare Masal Tove Simmantov Arshab puoi dirmi che siamo un gruppo di pazzi e puoi dire quello che vuoi veniamo al tempio per far cosa uno viene al tempio a far cosa uno va al tempio a pregare cosa vuol dire pregare perché credo che c'è a Karush Vohu non vengo al tempio a mettere la V vengo al tempo a pregare cosa vuol dire a pregare direi che scrive per l'alimenti l'alimenti non mi parla ma l'alimenti sempre l'or la vita la prima che scrive nel choc saliach tibur Rabbinathan dice che il lavoro delo saliach tibur vuol dire chi sa l'affare la tibur e il suo lavoro è far render tutto uno è tirare super per quello che ci vuole hanno dieci persone che rappresentano dieci sferir per la tibur ma il lavoro del saliach tibur vuol dire la persona che legge la tibur il suo lavoro innalzare tutto a uno far sì che tutto è uno tutto il lavoro sapere che tutto è uno cosa vuol dire che tutto è uno quando hai il monopattino che funziona è Dio quando il monopattino te lo rubano anche è Dio e a Kadosh Proquo è sempre lui fa tutto lui fa tutto lui non ci dobbiamo rimbambire e sapere che tutto quello che succede succede per il nostro bene non fa niente questa settimana mi ha chiamato una persona mi ha detto guarda non è andata bene con questa ragazza qua perché Dio mi vuole castigare ma Kadosh Proquo non vuole castigare ti vuole mettere sulla strada buona per avvicinarti a lui ma un padre che ti vuole bene non vede l'ora che torni a casa se hai preso una roba che non va bene cosa fa ti castiga ti dice stai lontano da me per altri dieci anni no quello che noi leggiamo come castigo in realtà Kadosh Proquo soltanto ci sta avvicinando a lui dice no non far sta cosa farla così come diciamo tante volte per togliere una caria devo venire con il coso e tirarlo via voglio togliere una roba rotta dal muro devo un muro che è stato fatto storto che non è buono che non serve a niente devo venire con quello che spacca i muri devo tirare le botte ma la so Asakarush Proquo dice guarda non te le do tutte in un botto te le do pian piano ti colpisco sui soldi ti colpisco sulle robe che le robe che non ti vanno sul corpo questa è la differenza da prima e dopo e questa è la preparazione per arrivare a Pesach e poi a Pesach allora ti tira via da tutti i problemi ti tira fuori dall'Egitto per quello che Rabbi Nacho ha detto che una volta veramente dovevi solo uscire dall'Egitto dovevi soltanto uscire dai mezzarim le cose che ti stavano strette oggi sei così al buio sei così dentro le clipot che guadagnano che vivono da questa luce così grande che la prima roba che devi fare è sapere che Dio è lì come c'è la canzone che dice vea filu bea star vea filu bea star addirittura astara astara vuol dire non vedere che è dentro l'astara che è dentro il buio mamash anche lì dentro è tutto il contrario uno adesso ridevamo un altro giorno diciamo guarda tutto il mondo ha paura che la Russia tira fuori la bomba atomica ma è la bomba atomica il Ramo un po' di tempo fa ci diceva guarda come va il sole soltanto una persona che guarda come è fatto il sole la natura dice come può essere una roba di genere a parte che è una roba che brucia di continuo in un posto dove non c'è neanche l'ossigeno a va il sole cosa fa ha una forza di gravità così forte come le altre stelle che in pratica i metalli o i materiali che ci sono non so che si dice in italiano però gli vanno verso si attraggono e scoppiano di continuo il sole sono delle bombe atomiche continue quindi è come sono esplosioni atomiche di continuo che però vedi oggi c'era un po' di pioggia appena sono andate via le nuvole è venuto un po' il sole che bello di tutto viene vitalità comunque ci sono le nuvole sentiamo che non c'è vitalità due o tre giorni perché è di Milano anche due o tre mesi non vedi il sole dopo che si aprono le nuvole e vedi un po' il sole dici che bello in realtà cosa stai godendo di esplosioni atomiche ogni cosa ce la fa Bidiu Cal Misurino ogni cosa ce la fa misurata al millimetro dobbiamo sapere che non esiste una roba che lo fa per castigare questa è una roba che dobbiamo metterci in testa a me dispiace essere ripetitivo su questa cosa Dio non castiga ma ci vuole indirizzare nella strada giusta non c'è non c'è di arrivare a Pesach con la consapevolezza che sia che siamo diventati religiosi sia che non siamo religiosi che è con noi non solo ci fa un botto di miracoli di continuo anche 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 se non se non 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 facciamo quello che facciamo come diverse volte mi ha raccontato storie su storie non ha bisogno dei tuoi tefilini non ha bisogno della tua sedaka e non ha bisogno che studi torà tutto quello che ti dice di fare è soltanto per te è solamente per te per la tua famiglia per i tuoi amici per avvicinarti a lui perché l'avvicinamento a Dio è il godimento più bello che una persona può provare non c'è niente di più bello ma 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 che riusciamo ad averlo se qualcuno ha qualche domanda o qualche cosa da dire un miracolo da raccontare una barzelletta no ah Andres mi ha raccontato una barzelletta bella che è come si dice sempre ogni volta perché parliamo di di tenere gli occhi no ah no me l'ha raccontata David ha detto che ci sono due persone che sono sedute su una panchina e uno dice all'altro passa una bella donna e dice ma che schifo che schifo e questo qua lo guarda ma come che schifo si uno schifo passa un'altra bellissima donna e questo qua gli dice wow wow che schifo che schifo e lui ha detto ma come che schifo guarda che bella donna fa e gli dice no non lei mia moglie come per dire che ma bisogna stare attenti perché sennò poi fai questa cosa qua succede quindi bisogna stare attenti agli occhi tenere gli occhi per terra non guardare mai niente che a una persona non gli vengano certi pensieri io ne può ah non avevo neanche finito